50 persone tra fedeli e religiosi riuniti in chiesa a celebrare la messa di Pasqua. È successo a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, dove intorno alle 20.30 di sabato sera, nella chiesa Copta Ortodossa, i carabinieri sono intervenuti per interrompere la funzione religiosa che si stava tenendo. Per la chiesa Copta Ortodossa questi infatti sono i giorni delle celebrazioni pasquali e nella serata di sabato i fedeli stavano proprio celebrando il grande e santo sabato, vigilia della Pasqua Ortodossa, che cadeva quest'anno il 19 aprile. Una celebrazione naturalmente contraria a tutti i decreti emanati, che è costata cara ai partecipanti. Infatti i fedeli, tutti uomini insieme a quattro religiosi, sono stati identificati e multati dai carabinieri per aver violato le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Le restrizioni dovute al contenimento del coronavirus impongono di evitare qualsiasi spostamento non legato a motivi di estrema necessità e ciò significa che le celebrazioni religiose non rientrano nella lista e anche se le chiese continuano a rimanere aperte ai fedeli, le messe sono state sospese già dall'inizio dell'emergenza.